Non può vaccinarsi non perché non vuole, ma per comprovati motivi di salute. Eppure, nonostante l'esenzione sia stata accertata e documentata, secondo i medici dell'Asur il sero anti-covid potrebbe riceverlo. Un controsenso che a Liliana Pieragostini non va proprio giù. Infatti, la signora, 54enne di Pergola, ha già rischiato la vita all'età di due anni. Era il 1969, quando a causa di un'encefalite post-vaccino antivaiolo venne ricoverata d'urgenza all'ospedale di Senigallia. Andò in coma per alcuni giorni e i dottori dissero ai suoi genitori che aveva poche probabilità di salvezza, ma che, se superata la malattia, sicuramente le avrebbe lasciato delle lesioni cerebrali. Invece, per fortuna, andò tutto per il meglio. Ma da allora i sanitari le dissero che nell'arco della sua vita non avrebbe potuto fare nessun tipo di vaccino, nemmeno quello dell'antitettanica. Sono stata molto male. Ha rischiato la vita? Ha rischiato la vita, sì. Crescendo, qualsiasi dottore o visita che avessi fatto, il dottore mi ritenevano miracolata da questo evento. Ha sempre trovato sensibilità nel corso degli anni? Sì, fino a due anni fa questa era stata una malattia importante per me. Erano nelle cartelle, anche durante le mie gravidanze. Ho dovuto sempre specificare quello che aveva avuto in seguito a questo vaccino. E per cui una volta era importante, oggi non più. Infatti, quando nei mesi scorsi si è recatto in un punto vaccinale chiedendo l'esonero per il siero anti-covid, l'è stato negato perché non rientrerebbe nella lista di coloro che possono beneficiarne. Quasi presa in giro, cioè non hanno dato riscontro per niente alla mia cartella clinica, ai miei problemi che avevo avuto da bambina. Era soltanto un vaccino che si deve fare. Quindi non li hanno concesso ad esonero? No, assolutamente, assolutamente no. Ha inviato anche una PEC, no? Sì, tramite l'avvocato ci siamo rivolti al dirigente sanitario per cercare di ottenere questa esenzione. Non ci ha risposto dopo più di dieci giorni dall'invio della nostra PEC. Non ci sono, secondo lui, anche con tutta la documentazione, la cartella e tutto quanto, secondo lui non c'erano i requisiti per ottenere questa esenzione. Lei però ha deciso comunque di non effettuare la somministrazione del siero? No, non posso rischiare. Anche perché sono cresciuta da quando ero piccolina, sempre con, mi raccomando, mai più vaccini, mai più vaccini, non li farei, non posso rischiare. Questo oggi comporta per Liliana, di professione impiegata, di eseguire il tampone a sue spese ogni due giorni, anche per ricarsi in ufficio. Lavoro, ma anche la vita sociale, perché ormai il Green Pass viene richiesto quasi ovunque. Sì, dappertutto, sì. Vita sociale, come me e tantissime altre persone hanno questo problema, purtroppo. Tiriamo avanti, non mi vergogno di fare la fila davanti alle farmacie a fare i tamponi. Però è un po' arrabbiata lei con il sistema sanitario. Sì, assolutamente, sì. Non capisco la differenza. Due anni fa la mia malattia era importante, oggi non conta più niente. Che cosa pensate di fare? C'è qualche soluzione? Soluzione? La mia, questa è una protesta, è una rabbia contro il sistema, contro questo meccanismo. Vado avanti, tiro avanti, farò i tamponi, fin quando, sperando che questa cosa possa prima o poi finire. Oggi è un po' arrabbiata. Vado avanti, vado avanti. Vado avanti, vado avanti.